Uomini e donne, Luca Daffray fa tremare Angela Nasti, ho ancora tanti dubbi Siamo quasi giunti allatto finale di questa stagione di Uomini e donne. Il dating show di Canale 5 ha visto come protagonisti della seconda parte Angela Nasti e Luca Daffray. Se ad inizio del suo percorso il modello ha atteso qualche settimana prima di scegliere quale delle due troniste corteggiare, alla fine si è dedicato anima e corpo alla bella partenopea. Tra i due c'è stata immediatamente una grande attrazione. Nonostante alcune incompressioni, il loro percorso è andato avanti. I protagonisti di Uomini e donne si sono scambiati alcuni teneri baci che hanno mandato su tutte le furie laltro corteggiatore di Angela, ovvero Alessio. Quest'ultimo, infatti, ha dichiarato al magazzine di Uomini e donne che teme molto Luca vista la vicinanza con la tronista. Nonostante questo il modello ha raccontato di avere ancora dei dubbi nei confronti di Angela Nasti. L'avventura di Angela e Luca Uomini e donne. Angela Nasti è sorella della conosciutissima influencer Chiara che ha partecipato alla scorsa edizione dell'Isola dei Famosi, ed è stata scelta per sedere sul trono in questa seconda parte di stagione di Uomini e donne. . Determinata, bella e simpatica ha attirato su di sé l'attenzione del pubblico. . Nonostante qualche difficoltà iniziale è riuscita ad imporsi. Ha cercato di conoscere diversi ragazzi anche se la sua attenzione si è focalizzata, alla fine, su due persone e nello specifico si tratta di Luca e Alessio. . Il primo ad inizio di questa seconda parte della stagione di Uomini e donne è rimasto sospeso tra Angela Nasti e la collega Giulia Cavaglia. . Dopo alcune settimane di frequentazione in molti pensavano che la preferenza ricadesse su quest'ultima ma un po' a sorpresa il modello ha confessato di voler corteggiare la tronista partenopea. . Per quanto concerni Alessio, invece, sin dall'inizio ha dichiarato di voler conoscere Angela e grazie alla sua simpatia, alla sua schiettezza e al suo carattere è riuscito a farsi largo nel cuore della tronista. . . . . Siamo giunti ormai a pochi passi dalla scelta finale per la tronista e i corteggiatori è quasi tempo di tirare le somme. . . . . . . . . . Ha parlato di questa sua nuova esperienza nel dating show di Canale 5. Un'esperienza molto intensa, nella quale è stato messo in discussione tantissime volte. Sia le troniste che gli opinionisti, inizialmente, l'hanno accusato di rimanere in studio solo per visibilità. Pian piano Luca è riuscito a dimostrare il suo interesse per Angela Nasti, anche se ha raccontato di avere ancora dei dubbi sulla tronista partenopea. Più le settimane passano e più continuo a pensare che Angela e Alessio non abbiano niente in comune. Ho ancora tanti dubbi su Angela da chiarirmi. Ho bisogno di capire se Angela ragiona con il cuore oppure no. Staremo a vedere nelle prossime puntate di Uomini e Donne se ci sarà un avvicinamento decisivo tra Luca Daffrey e Angela Nasti e soprattutto chi sarà la scelta della tronista.